Amorevole Bartolozzi, il 12 giugno ci saranno i referendum, secondo lei c'è un'adeguata informazione? Se ne parla abbastanza? Purtroppo no, perché soprattutto il servizio pubblico ha oscurato l'informazione sui quesiti referendari. Quindi ringrazio lei e ringrazio tutti i suoi colleghi del servizio non pubblico che fanno informazione. Solo con l'informazione noi consentiremo ai cittadini di esprimere la loro voce mediante il voto referendario, esercizio di democrazia. Lei fa parte del comitato FIA referendum, perché questa scelta? Perché penso che sia l'ultima chance che ha il popolo italiano per cambiare veramente la giustizia penale del nostro sistema. Il tema è non il singolo quesito, il tema che si devono porre i cittadini italiani è volete ancora questa giustizia penale o volete una giustizia penale diversa? Il governo, questo governo e questo Parlamento si sono dimostrati inadeguati ad attuare le grandi riforme e solo con l'approvazione dei quesiti referendari noi riusciremo ad avere una giustizia penale diversa e giusta.